Pallavecini, grazie di essere con noi. Grazie a lei direttore. Candidato con la lista Totti per Marco Bucci alle elezioni amministrative che si tengono, caro Pallavecini, dopo domani. Ci siamo, dopo tanta cavalcata, mi racconta un po' come è andata la sua prima volta da candidato, l'uomo associativo, quindi ha una consuetudine politica ma sotto altra veste, adesso l'è toccata la campagna elettorale, come è andata? Una campagna elettorale piacevole, nel senso che abbiamo ripercorso un po' quello che, come diceva giustamente lei, io ne vengo dai corpi intermedi, quindi abbiamo ripercorso un po' la storia di quello che abbiamo fatto in questi cinque anni andando a risensibilizzare un po' tutte quelle attività, i territori, i CIV, le imprese che sono come sempre un patrimonio inestimabile della nostra città. E devo essere onesto, sono stato travolto da piacevoli sensazioni, sia a favore del sindaco Marco Bucci, che comunque è una persona che è stata interpretata nel suo ruolo di grande manager che ha saputo dare un'accelerata alla nostra città e questo è sicuramente uno degli aspetti più positivi che abbiamo raccolto. Ci sono state sicuramente fatte tante osservazioni rispetto a quello che era un'ordinarietà di percorso della città, ma è anche vero che poi Genova è stata per tre anni, così come tante altre città d'Italia per via della pandemia, ma ancora prima col ponte piuttosto che con la mareggiata, piuttosto che con l'alluvione, vittima di continue tragedie dove poi l'amministrazione ha dovuto porre dei rimedi. E quindi sicuramente oggi nell'immaginario dei cittadini si ha un po' quasi la percezione e dire adesso vi mettiamo un po' alla prova di quello che sarà un'amministrazione nell'ordinaria e quindi anche da parte dei cittadini c'è un po' la volontà di rimettersi in discussione con l'attuale sindaco e questo è stato sicuramente qualcosa che ci ha stimolato nell'incentivare e anche un po' rafforzare il concetto di una buona amministrazione che con un buon coordinamento di regione potrà sicuramente fare la differenza anche in questo futuro coinquegno. Stanno arrivando naturalmente poi i momenti anche del tirare le somme di tutta questa battaglia politica amministrativa non è stata una campagna violenta o particolarmente selvaggia tutto è un po' circolato attorno ad alcuni concetti fondamentali il sindaco del fare che però non ascolta e allora questo hanno detto ai loro avversari chi ha fatto davvero il ponte questa è un'altra di quelle... le sono, come dire, l'hanno delusa questo tipo di ragionamenti sperava di poter portare istanze diverse quali quelle che lei ha raccolto di persona nel corso? perché poi magari un candidato ha più la percezione se la campagna elettorale si sta distaccando troppo da quello che le persone poi veramente chiedono ma allora sicuramente quello che si è percepito è veramente un sindaco del fare queste poi diatribe, opposizione, maggioranza persone che vanno a rivendicare il ruolo, non ruolo o l'aspetto decisionale credo che faccia anche un po' parte del gioco della campagna elettorale stessa di voler riportare a sé l'attenzione e il merito su determinate cose ma è qualcosa che poi ha lasciato sicuramente poca traccia c'è sicuramente stata una campagna sotto traccia è stata sicuramente una campagna dove ci ha visto la compartecipazione di tanti nostri colleghi sicuramente quello che i cittadini chiedono è un maggior ascolto da parte di coloro che compongono la giunta perché il sindaco sicuramente in alcuni momenti è inavvicinabile perché come ci siamo detti è lì che manda avanti il comune però dall'altra parte ci devono essere dei buoni amministratori che scendono un pochettino più in strada non a tagliare nastri, non a feste ma sicuramente a ragionare con l'impresa a rapportarsi con l'imprenditore Lei ha parlato di più con le imprese o con i giovani visto che fa parte di entrambe le categorie? Abbiamo parlato sia con tante imprese ma anche con tanti giovani perché ci tengo sempre a precisare che è un dato che mi fa sempre molto molto piacere noi abbiamo come ben sa prima della mia richiesta di entrare in campagna elettorale costituito prima durante la pandemia il punto impresa futura che era dedicata ai giovani e poi il sindacato delle start up per racchiudere quello che è il nuovo mondo digitale e in questo mi ha così stupito e affascinato noi abbiamo incontrato più di un centinaio di giovani che stanno investendo sul nostro territorio e che si vogliono ravvicinare al mondo politico perché hanno capito che scollarsi da quello che è la funzione della pubblica amministrazione rischia poi di rimanere sempre un passo indietro non perché la pubblica amministrazione non li vuol trasferire le informazioni ma perché non riescono a essere al passo con quelli che sono i bandi con quelli che sono i finanziamenti e Genova in questi anni nonostante la grande crisi ha saputo licenziare tanti bandi tanti documenti a favore dell'impresa tanti finanziamenti che potessero dare respiro e quindi i giovani quando hanno così saputo dal mondo del digitale lo chiamiamo così volgarmente che mi sono candidato e cercherò di prestare servizio alla pubblica amministrazione si sono avvicinati nella speranza che un domani possa essere il loro interlocutore per portare avanti l'iniziativa quindi è molto positivo ovviamente per un candidato avere l'appoggio di tante persone mi parli un po' di lei la famiglia l'ha appoggiata in questa battaglia l'hanno detto no lascia perdere guarda che è un terreno pericoloso invece hanno detto no vai provaci diciamo che la famiglia sia quella più a livello stretto personale che la famiglia un po' più allargata che quella dell'associazione di categoria che mi sono onorato da tempo di rappresentare sono stati tutti molto molto favorevoli quando in riunioni ancora agli albori della possibilità della campagna elettorale il presidente Totti abbiamo fatto una riunione per definire se c'era una volontà di intenti reciproca nel percorrere questa strada diciamo che sono stati tutti molto molto contenti di questa mia scelta perché comunque è espressione voglio dire di un contesto e di un contenitore di grande moderatezza di grande voglia di mettersi in discussione insomma se lei ha avuto a che fare con l'amministrazione e alla fine ha deciso di candidarsi a favore dell'amministrazione vuol dire che è molto contento no no sicuramente il grande lavoro che ha fatto il presidente è indiscutibile poi noi abbiamo lavorato a stretto contatto anche per la gestione degli abbe vaccinali quindi c'è stata già una comunione di intenti prima della scelta di entrare in politica credo che la mia famiglia è stata sicuramente contenta così come sono stati tutti molto contenti in associazione di poter esprimere un loro diretto rappresentante nell'amministrazione pubblica cosa fa domenica? domenica domenica me ne dispiaccio ma non potrò andare a votare perché non sono residente nel comune di Genova quindi non riuscirò neanche siamo in due ad esprimermi un voto verso me stessa quindi non potrà votare se stessa no spero che almeno una delle persone con cui ho fatto il mio percorso che è la mia collega Caterina almeno lei si ricordi di me e tutte le persone che ho conosciuto però domenica sarò lì in ansia nella speranza che si chiudi il più rapidamente possibile tanto ci vorrà del tempo perché si cominciano le scrutine alle 14 del giorno successivo del lunedì 13 giugno ci sarà poi il tempo di capire intanto chi sarà il sindaco se ci sarà il ballottaggio oppure no e poi naturalmente man mano tutti quanti i consiglieri poi i municipi insomma avremo tutti questi dati l'aspettiamo a Terrazza Colombo assolutamente di pomeriggio così almeno ci onorrerà della sua presenza e commenteremo insieme dati un pochino più concreti nel frattempo in bocca al lupo grazie si vuota domenica 12 giugno cioè questa domenica dalle 7 alle 23 3